Le argomentazioni portate a sostegno del sì sono prevalentemente retoriche e non veritiere, a partire dal fatto che sarebbe per permettere all'Italia di essere questa riforma, per essere governata, che il bicameralismo paritario o simmetrico, come è chiamato, sarebbe un impedimento alla governabilità. La stessa governabilità è un'immagine di origine demagogica, non è un valore prioritario né fondamentale della democrazia la governabilità. I valori fondamentali della democrazia sono altri, sono proprio la dialettica governo-opposizione che deve essere viva, vibrante, polemica anche e quando questo accade vuol dire che siamo in una democrazia sana. Quando questa dialettica viene meno vuol dire che siamo in presenza di patologie del processo democratico.